Inaugurazione nella grande distribuzione nuovo punto vendita sul territorio del Veneto, una scelta di campo che permette di valorizzare le eccellenze venete e il caso dei supermercati Prix che hanno aperto nel Polesine, per la precisione a taglio di Po, un altro centro ricco di prodotti per la clientela, dal banco della frutta a quello della carne, detersivi e prodotti per la casa. La grande distribuzione che guarda pochi chilometri di distanza per mettere sugli scaffali il meglio della qualità italiana e succede anche qui al Prix di taglio di Po, alla base un forte legame con la produzione locale dando spazio a fornitori e dipendenti del territorio. Diciamo che per noi è un grande orgoglio inaugurare il 171esimo punto vendita a taglio di Po in provincia di Rovigo perché rafforziamo la nostra posizione di leader nel Veneto dove ne abbiamo 145, tra l'altro a Rovigo abbiamo anche Porto Viro e Dade che ci stanno dando grosse soddisfazioni, ci sembrava doveroso anche per gli abitanti di questa bellissima cittadina dare questo servizio. Di particolare importanza il banco frutta che offre ogni giorno verdure di ottima qualità e da sempre biglietto da visita dei supermercati Prix, come i sughi quasi tutti di marca Veneta. Diciamo che abbiamo anche una linea apposita che si chiama eccellenze di Prix dove abbiamo in ogni famiglia proprio l'eccellenza, diciamo l'eccellenza locale, quindi non so tanto per fare un esempio nel ragù abbiamo ragù d'anatra che è fatto da una gastronomia famosa vicentina che ha marchio eccellenze di Prix, nei tortellini ad esempio abbiamo i tortellini di valeggio oppure i tortellini con il prosciutto San Daniele, sono tortellini a pasta sfoglia sottilissima cotti in due minuti che sono veramente buonissimi. Sempre più spesso il legame con il territorio viene espresso attraverso aiuti concreti con le realtà del posto e quindi distribuendo ticket per le fasce più bisognose e anche a un nuovo punto vendita di taglio di po' sono stati donati alle associazioni decine di buoni ticket. Abbiamo apprezzato moltissimo l'iniziativa di Prix perché ci ha contattato e ci ha offerto 3.000 euro che come comune abbiamo deciso di gestire tramite il gruppo per i sociali composto dal comune appunto da Caritas, taglio di po', da Foglie vive e da Hauser, taglio di po'. Sono tre associazioni che si occupano appunto dei sociali di aiutare famiglie in difficoltà.